Un messaggio non solo rivolto al mio Beppino, ma per riflettere su quello che sta accadendo. Storie d'amore lunghe decenni, spezzate da un virus che non consente nemmeno di dare l'ultimo saluto a chi ci è stato accanto per tutta la vita. Anziani che sono risorsi e che lasciamo andare via perché tanto il coronavirus non colpisce i giovani. L'amore, ai tempi del coronavirus, a raccontarlo è Michela, 50 anni, compagna da 4 di Beppino Inglaro, 79, il padre di Eluana, la giovane lecchese al centro di una dura battaglia giudiziare a morta nel 2009, dopo 17 anni in stato vegetativo permanente, in seguito all'interruzione della nutrizione artificiale. Sua, la lettera scritta a Enrico Mentana, che l'ha definito un monumento all'amore e all'età che il virus rende i più esposti. Io e Beppino siamo rimasti in Liguria in vacanza in un appartamento di amici fino a sabato 7 marzo, poi con il decreto del governo io sono rientrata in Lombardia per occuparmi dei miei tre figli, sono orfani di padre dal 2009 e invece Beppino è rimasto in Liguria da solo, scrive Michela. Ora siamo distanti, ci sentiamo per telefono, ma a noi basta anche così. C'è molta gente malata negli ospedali e il fatto di stare bene e di poterci sentire è motivo di gioia. C'è un pensiero però che mi rattrista. Purtroppo il coronavirus è visto come il virus che fa morire i vecchi, io ho 50 anni e Beppino 79, ma i sentimenti sono gli stessi che possono avere coppie ben più giovani di noi. Purtroppo si tende a giustificare queste morti in quanto vecchi senza pensare quanto ancora possono dare a tutti noi e possono ancora insegnarci tanto. Come Beppino che si è battuto per un'idea di libertà di scelta della figlia e ora tiene duro perché ama la vita e perché amando una donna più giovane di 30 anni vuole abbattere tutti quei muri alzati non dal coronavirus, ma da quelle persone che hanno dimenticato il vero significato della parola amore, quell'amore che non ha età. Michela ora si trova sul lago di Seo, insieme ai figli. Dobbiamo mettere da parte il nostro egoismo e pensare a quello che in questo momento davvero ha valore, dice. Beppino in glaro, frastornato da una simile dichiarazione, schivo, come sempre stato anche durante la sua lunga battaglia per liberare Luana, concede solo poche parole. Io e Michela ci vogliamo bene da quattro anni, ora siamo distanti ma nulla ci dividerà. La sua dichiarazione d'amore non è solo per me, ma per tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo.